Buongiorno amici, è iniziata la settimana di Ferragosto e Cagliari, la nostra città, è piena di turisti, di tante persone che sono venute a visitarla, ma anche di tanti cagliaritani che ancora stanno lavorando oppure stanno seguendo i propri familiari. Allora il mio augurio per tutti voi è di passare una bella settimana, un buon Ferragosto e se mi permettete vi do dei consigli su dei luoghi per me importanti, caratteristici da visitare, che siate cagliaritani o che siate dei turisti. Il primo è il Fortino di Sant'Ignazio, la zona di Calamosca, Santeria, vi consiglio di andare in quel luogo perché da lì vedete tutto a Cagliari, un altro luogo è un altro scorcio bellissimo di Cagliari, lo potete ammirare da buon cammino appena fatta a Piazza d'Armi, un altro simbolo della cagliaritanità è la chiesa del Sant'Iffiso. Quindi se in questi giorni volete visitare la nostra città io vi consiglio questi luoghi. Buon Ferragosto e buone vacanze a tutti!